Non solo la visita geriatrica inviata quando il paziente era già morto da un mese. Qualche giorno prima che lo specialista bussasse alla porta della vedova del 75enne, malato di Alzheimer, morto l'11 settembre scorso, la dita incaricata dall'Asli Lecce aveva consegnato a domicilio 270 pannoloni e 90 traverse. A svelare il retroscena è l'associazione Salute Salento che ha denunciato le lungaggini burocratiche da quando la richiesta della visita domiciliare urgente è stata firmata dal medico curante il 24 agosto scorso al giorno in cui il geriatra si è recato a casa del paziente nel frattempo passato a miglior vita il 14 ottobre. Pomo della discordia proprio il carattere di urgenza della visita domiciliare giudicata inammissibile dall'Asli che aveva invitato la donna a presentare una richiesta semplice. La responsabile del servizio assistenza domiciliare territoriale Giovanna Zaurino preferisce per il momento non intervenire sulla vicenda ma a fare chiarezza ci pensa il direttore del distretto socio sanitario di Lecce Rodolfo Rollo. Contattato al telefono. Rollo sgombra il campo da ogni equivoco. Il vademecum al quale i medici di famiglia si devono attenere non contemple carattere di urgenza per le visite a domicilio a differenza di quelle ambulatoriali. In ogni caso 50 giorni di attesa per una visita geriatrica appaiono davvero troppi. Colpa delle richieste accumulatesi durante le ferie estive dice Rollo. Nessun commento da parte dei familiari dell'uomo che dopo aver informato dell'accaduto l'associazione salute salento hanno chiesto di rimanere nell'anonimato e di non svelare il nome del medico curante.